Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, terza parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato ad Antonio Canova. Avevamo concluso il precedente video dicendo che nel 1793 il 36enne Canova porta finalmente a compimento l'amore e psiche commissionatagli dal colonnello Campbell sei anni prima. Prima di procedere come sempre vorrei ringraziarvi per il vostro supporto e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon sia in formato ebook sia in formato cartaceo. Canova scolpisce nel marmo uno dei momenti più lirici del romanzo di Lucio Apuleio del secondo secolo dopo Cristo dal titolo L'asino d'oro dove è narrata la favola di amore e psiche. Psiche è una principessa talmente bella che attira le ire di venere o afrodite che invia suo figlio Eros o cupido perché la faccia innamorare dell'uomo più brutto e più avaro della terra. Il dio però colpito dalla bellezza della fanciulla si distrae e sbaglia mira colpendo con la sua freccia d'amore il proprio piede. Amore si innamora quindi di psiche e decide di portarla nel suo palazzo cosa che fa con l'aiuto di Zefiro. Psiche e amore vivono momenti di grande passione che però avvengono soltanto nel buio della notte perché amore non vuole svelare a psiche la sua identità per paura delle ire della madre. Spinta dalle sorelle invidiose psiche decide però di guardare in viso il suo amante e così mentre amore dorme si avvicina al suo volto con una lampada e resta affolgorata dalla sua bellezza. Mentre ne ammira il profilo una goccia d'olio della lampada cade accidentalmente sul giovane che risvegliatosi scappa via. Quando venere viene a sapere dell'accaduto scatena la sua ira su psiche che per punizione viene sottoposta dalla dea a prove durissime che la principessa supera però brillantemente anche grazie all'intervento di esseri divini. Questo fa infuriare maggiormente venere che costringe la fanciulla a un'ultima prova. Dovrà discendere negli inferi e chiedere alla dea proserpina un po' della sua bellezza. Come ordinatole psiche si reca negli inferi e riceve da proserpina un'ampolla con l'indicazione di non aprirla. Nonostante ciò incuriosita psiche apre il contenitore dal quale fuoriesce una nuvola che la fa cadere in un sonno profondissimo. Nel frattempo amore che ancora innamorato di psiche era andato alla sua ricerca la ritrova e la sveglia con un bacio. Per non rischiare di perderla di nuovo amore conduce psiche sull'Olimpo dove grazie all'aiuto di Giove la giovane principessa dopo aver bevuto dell'Ambrosia diviene anch'essa una dea. La storia si conclude con il matrimonio dei due innamorati e la nascita di una bellissima bambina che viene chiamata Volutà. Ispirandosi a un affresco di Ercolano raffigurante una baccante tra le braccia di un fauno Canova decide di raffigurare amore e psiche che si contemplano l'un l'altra con dolcezza e intensità nell'attimo che precede il fatidico bacio. Le loro labbra pur essendo estremamente vicine non sono ancora unite. Le ali di amore sono ancora spiegate come se fosse appena giunto per soccorrerla. Il suo ginocchio sinistro è poggiato a terra mentre con la spinta della gamba destra si china in avanti inarcando il torso e al contempo flettendo la testa così da avvicinarla al volto addormentato dell'amata che sorregge delicatamente con la mano sinistra. Con la destra invece sfiora il seno di lei tradendo il suo desiderio. Psiche invece è semidistesa con lo sguardo rivolto verso l'alto e le braccia timidamente sollevate per accogliere il bacio di amore sfiorando con le dita i capelli di lui. I loro corpi adolescenziali caratterizzati da una perfezione anatomica squisitamente neoclassica sono completamente nudi fatta eccezione per un drappo che vela appena le intimità di psiche. Se si osserva il gruppo dal punto di vista canonico di visione cioè quello ortogonale ovvero davanti alla scultura si nota che i corpi di amore e psiche intersecandosi danno vita a una X morbida e sinuosa. Il primo arco va dalla punta dell'ala destra di amore a quella del suo piede destro mentre il secondo parte dalla punta dell'ala sinistra e si conclude nel corpo di psiche. Il punto di intersezione tra queste due direttrici che è anche il punto focale della composizione quello cioè verso il quale si proietta lo sguardo dell'osservatore è sottolineato dal delicato abbraccio dei due personaggi. Le braccia di amore e psiche formano due cerchi intrecciati dando vita a un tondo che incornicia i due volti quasi congiunti e accentua i pochi centimetri che dividono le loro labbra. Se la visione frontale dell'opera è quella più indicata in quanto consente di coglierne la complessa geometria compositiva essa non esaurisce le possibilità di godimento della scultura che è leggibile da tutte le visuali. Guardando il gruppo dal retro infatti si scorgono la faretra di amore, la fluente capigliatura di psiche e il vaso di proserpina. Ruotando attorno all'opera inoltre variano all'infinito i rapporti reciproci tra i corpi dei due amanti, cosa che ci permette di apprezzare la grande complessità del lavoro del Canova. Amore e psiche risponde pienamente ai principi dell'estetica del neoclassicismo. I gesti dei due personaggi sono infatti delicati ed espressivi, mentre i loro movimenti nello spazio sono equilibrati, continui e ben sincronizzati. Allo stesso modo Canova comunica il loro trasporto amoroso in modo equilibrato, sfumando la loro passione in una tenera contemplazione. Alcuni degli aspetti dell'opera tuttavia già rimandano al romanticismo. La stessa sensualità, ad esempio, che seppur filtrata dal neoclassicismo canoviano avvolge tutta la composizione, oppure il dinamismo spiraliforme che anima la scultura. Quando l'opera viene completata, ricordiamo nel 1793, il colonnello Campbell non è in grado di sostenere le ingenti spese per farla trasportare in Inghilterra e nel 1800 la vende per duemila zecchini a Gioacchino Murat, che la sposta nel palazzo reale di Compiegne nelle vicinanze di Parigi. Nel 1808, quando i beni di Murat entrano in possesso della corona francese, Amore e psiche passa, insieme ad altre opere, nelle collezioni del Museo del Louvre, dove tutto resposta. L'opera viene accolta freddamente in taluni ambienti artistici, dai quali viene ritenuta eccessivamente complessa e barocca, quasi manierista. Ricordiamo che il manierismo è una tendenza artistica, soprattutto pittorica, di fine Cinquecento, in passato giudicata negativamente perché fondata sull'imitazione artificiosa dei maestri del Rinascimento. Tra i critici più feroci dell'amore e psiche vi è il letterato di formazione kantiana, Karl Ludwig Fernow, che vediamo qui in quest'immagine, che nel 1806 scrive una dissertazione dove sostiene che, aperte virgolette, in vano, lo spettatore si affatica a ricercare un punto di vista da cui scorgere entrambi i volti e nel quale ridurre, appunto, di convergenza centrale ogni raggio dell'espressione di tenerezza. Chiuse le virgolette. Malgrado le critiche, che comunque non sono molte, l'opera rappresenta un ulteriore momento di grande successo del Canova. La risonanza del gruppo è enorme e sono in moltissimi, tra artisti, viaggiatori ed eruditi, a visitare l'atelier di Canova per poter ammirare il marmo, a tal punto che lo scultore è spesso costretto ad andare a lavorare in un altro studio. Tra gli ammiratori più entusiasti ricordiamo il poeta romantico John Keats, che, ispirato dall'opera canoviana, nel 1819 scrive Od to Saiki, una delle sue odi più celebri. Altro grande ammiratore è il principe russo Nikolai Yusupov, che arriva a Roma nel 1794 per conto dell'imperatrice Caterina II di Russia, la quale vorrebbe il Canova al servizio della propria corte. Lo scultore, rifiuta l'invito ma accetta di realizzare su commissione dello stesso Yusupov una seconda versione dell'Amore e Psiche. La gestazione di questo gruppo è più rapida e viene portata a compimento in circa due anni nel 1796, per poi arrivare in Russia nel 1802. Inizialmente esposta nel Palazzo del Principe a San Pietroburgo, dal 1929 l'opera è conservata nel Museo dell'Ermitage, che vediamo in questa foto, sempre nella stessa città. Bene, abbiamo così concluso questo terzo video. Come sempre vi ringrazio infinitamente per il vostro contributo e vi ricordo che, se avete bisogno dei testi dei miei video, sono disponibili su Amazon insieme agli altri miei libri, sia in formato ebook sia in formato cartaceo. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao e alla prossima!